Ciò che si deve a ogni persona per il solo fatto di essere nato e di esistere. Questo è l'essenza dei diritti umani, così come vengono descritti nella Dichiarazione Universale del dicembre del 1948 e quindi la capacità di poter essere titolari di una serie di caratteristiche che noi chiamiamo diritti, il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto alla sicurezza, il diritto all'alimentazione, il diritto all'istruzione e così via, che oggi a partire proprio da quella data del 1948 appartengono non soltanto al cittadino o a una classe piuttosto che a un'altra, ma appartengono a tutte le persone in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto vivano, sotto qualsiasi governo e regime. Ecco, questo è l'elemento più importante che naturalmente comporta anche che da parte di ogni persona ci siano dei doveri nei confronti degli altri e nei confronti anche ovviamente dello Stato per rispettare gli stessi diritti, fare in modo che diventino veramente gestiti e utilizzati da tutti quanti senza alcuna sopraffazione. Questo è il modo per comprendere che l'intreccio di diritti e di doveri è qualcosa che non può essere diviso, non ci sono più diritti o più doveri, perché i diritti che ognuno come persona ha sono anche i doveri che lui ha l'obbligo di concretizzare nei confronti delle altre persone.